è di là è diritto è è diritto devi girar fuori poi giri giù va giù diritto e basta ogni tanto devi fermarti e girarti indietro così ti rendi conto della pendenza aiuto che posizione di stupido è buo? è buo? è buo è buo cattivo ma Carlo è una linea hai filmato? ho filmato non ti sembra oh ma ti sembra a volte imbezzate ahahahhah non ti sembra ma non ti sembra ma non ti sembra ma vai ok 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 è che più ah e la mi ha fatto fare una strusciata al vito appena appena mi si è incastrato lo stivano e una pedivella di avviamento e non usciva più sto fetente e dopo anche il vito strusciato per colpa mia